Presidente, colleghi, colleghe, governo, oggi siamo qui per ricordare, per sottolineare l'importanza del giorno della memoria, per ricordare le vittime dell'olocausto partendo da un giorno particolare, un giorno speciale, il giorno in cui si sono aperti i cancelli di Auschwitz e abbiamo avuto l'opportunità di riconciliare il genere umano con se stesso ed è per questa riconciliazione che dobbiamo ricordare, lo stiamo ribadendo tutti, anche la collega che mi ha preceduto, dobbiamo avere memoria di quell'orrore, dobbiamo rivedere e risentire insieme l'abisso, dobbiamo ricordare quell'inferno per riconoscere nel passato che cosa inferno non è e dargli spazio e proteggerlo, perché un passato che non ci sconvolge è un passato che non ci cambia, perché ricordare il passato trasforma il presente. Oggi, Presidente, se me lo concede, vorrei soffermarmi nei pochi minuti che ho a disposizione proprio esclusivamente sul valore della memoria, non come un contenitore di un tempo passato, un contenitore sicuramente prezioso che va custodito e tramandato. Vorrei invece pensare alla memoria come un vaso di Pandora che si svuota, si apre e sconvolge, stravolge tutto e quindi cambia ogni cosa e ci ricorda di che sostanza siamo fatti o di che sostanza possiamo scegliere ogni giorno d'essere o di diventare. Per farlo chiaramente non potrò usare le parole mie o parole limitate e quindi userò le parole, prenderò liberamente in prestito parole di Massimo Recalcati. Dobbiamo, colleghi, colleghe, considerare che il passato non è un corpo morto che giace, non è solo qualcosa che è accaduto e che va ricordato, non è solo una commemorazione delle reliquie, ma il passato deve essere luce e viva della trasformazione di quei sacrifici e di quell'orrore in qualcosa che liberi il presente, che ci trasformi, che ci riconcepisca. Ora come posso spiegare con un esempio questo valore della memoria come memoria trasformativa, con un esempio e anche io come molti miei colleghi citerò la senatrice Liliana Segre. Dalla memoria vedete noi possiamo prendere un tutto, possiamo prendere il tutto solo un particolare, io oggi voglio recuperare solo un particolare, un episodio che Liliana Segre spesso racconta, di quando nel campo di concentramento ebbe l'opportunità, quasi l'occasione, di poter raccogliere una pistola da terra. Era lì e l'istinto forse la stava portando a raccogliere quella pistola. Era nell'abisso, era nell'inferno, era una giovane Liliana impaurita, arrabbiata probabilmente aveva l'occasione di vendicarsi. In quell'abisso Liliana Segre ha scelto di che sostanza voleva essere, ha scelto a quale genere umano appartenere. Ecco la lezione della memoria, avere consapevolezza oggi che anche nell'abisso, che anche nell'inferno si può sempre ancora scegliere di che sostanza essere. Quindi colleghi, non è vero che quando ci tolgono tutto, alla fine non resta niente, perché alla fine rimaniamo sempre noi e possiamo scegliere di che sostanza essere.